Endless Love, trame 10 e 11 giugno, Soider chiede a una pausa alla ex, Banu gelosa. Nelle nuove puntate della SOP TV Endless Love in onda lunedì 10 e martedì 11 giugno 2024, Kemal chiederà una pausa a Nian dopo che lei avrà rinunciato a divorziare Daimir per proteggere Ozan. La figlia di Onder faticherà a stare lontana da Soider mentre Banu invece farà una scenata di gelosia a Tariq. Tufan invece, riuscirà a riconquistare la fiducia di Aimir e a tornare a lavorare per lui. Kemal chiede una pausa a Nian ma lei non può stargli lontana le trame della Dizitur che in onda lunedì 10 giugno riprenderanno dal momento in cui Nian sarà di nuovo costretta a tornare Daimir e a rinunciare al divorzio. La donna continuerà a voler proteggere il fratello Ozan ma questa sua decisione si ripercuoterà inevitabilmente sul suo rapporto con Kemal. Quest'ultimo sarà affranto e chiederà a Nian una pausa, visto che secondo lui, la cosa migliore per entrambi sia quella di stare separati per un po' di tempo. La sorella di Ozan faticherà a stare lontana dall'uomo che ama e alla fine i due si incontreranno di nuovo in segreto. Proprio mentre saranno insieme verranno immortalati da un fotografo che vorrà rendere pubblici gli scatti. Soedere riuscirà a fermare il paparazzo e ad impedire che l'incontro con Nian diventi di dominio pubblico. Tufan invece, attraverso una bille mossa, riuscirà a riconquistare la fiducia di Emir e a tornare a lavorare per lui. Banu gelosa di Tariq, spoiler 11 giugno Le anticipazioni dell'11 giugno rivelano invece che Banu si mostrerà molto gelosa delle attenzioni che Tariq sta dedicando a Pellin. L'ex amante di Emir affronterà Tariq il quale però negherà ogni interesse verso Pellin. Il fratello maggiore di Kemal le dirà di essere solo furioso con lei per il suo tradimento. Nian intanto, chiederà a Leila di consegnare una lettera a Kemal. Nel corso del consiglio di amministrazione della Coscuoglio Holding, Kemal lascerà tutti di stucco nel momento in cui dichiarerà di voler iniziare i lavori per rendere di nuovo operativa una vecchia miniera insistente sul terreno della centrale termoelettrica. Endless Love sospesa in seconda serata dopo l'appuntamento di sabato 8 giugno, Endless Love non andrà più in onda nelle settimane seguenti in seconda serata su Canale 5. La serie tv con protagonisti Nian e Kemal proseguirà quindi solo in daytime dal lunedì al venerdì dalle ore 14.10 e sino alle 14.50 circa e il sabato e la domenica con puntate extra largi in onda fino alle 16.30. Le prime serate del venerdì sera di Canale 5 saranno occupate in quest'estate 2024 dalla nuova Dizitur Calarosa della Vendetta, che vede tra i suoi protagonisti l'attore Murao Unalms, già interprete di Demiria Man in Terra Amara.